Il Comitato Spontaneo Amici dell'Ambiente invita i cittadini a partecipare alla manifestazione pacifica che si terrà in data 22 gennaio alle ore 10.30 a Salerno in via Generale Clark davanti alla sede della Regione Campania per le autorizzazioni ambientali e rifiuti. La manifestazione si legge nella nota del Comitato allo scopo di manifestare ai funzionari dell'ATO, dell'ARPAC, dell'ASL e ai politici della Regione Campania che i cittadini di Battipaglia sono stanchi di essere la pattumiera dell'intera provincia di Salerno nonché dell'intera Regione Campania. Di qui la richiesta. Stop a nuove autorizzazioni, ad imprese che lavorano rifiuti ed invito a riconsiderare tutte le autorizzazioni concesse senza valutazione delle criticità ambientali e degli indici di pressione dei rifiuti.